E' stato effettuato ieri nella medicina covid dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca un nuovo trattamento con anticorpi monoclonali. Il paziente è interessato, un 22enne, affetto da una rara patologia, dunque particolarmente vulnerabile. L'intervento, coordinato dal medico di famiglia e del giovane, dall'USCA, dai dottori del reparto ospedaliero e dalla farmacia del Giovanni Paolo II, è andato a buon fine. Un'infusione di farmaci specifici a base di monoclonali che viene fatta nel giro di un'ora. Questo tipo di trattamento ha come obiettivo proprio quello di evitare le complicanze e di conseguenza la necessità del ricovero in ospedale. Non è un trattamento che viene però effettuato a tutti i soggetti positivi al covid. Possono accedervi infatti soltanto i soggetti a rischio complicanze e peraltro entro i primi giorni dall'insorgenza dei sintomi, altrimenti i monoclonali perdono la loro efficacia. La selezione dei pazienti è affidata ai medici di medicina generale e ai medici delle USCA che contattano il centro più vicino per concordare data e modalità di somministrazione degli anticorpi. Quello effettuato ieri potrebbe essere stato l'ultimo intervento del genere al Giovanni Paolo II. Il reparto di medicina dell'ospedale di Sciacca infatti si accinge a liberare gli ultimi posti letto tuttora occupati attraverso le dimissioni dei pazienti ricoverati e a tornare alla sua funzione originaria, posto che i ricoveri possono venire effettuati all'ospedale di Ribera. Al momento le persone ricoverate per covid sono cinque, ma dagli stessi numeri si evince come l'esigenza di nuovi posti letto nell'organizzazione ospedaliera venga fronteggiata dal fratelli Parlapiano dove non a caso i ricoverati tra degenza ordinaria subintensiva al momento sono dodici. Intanto la polizia scientifica indaga su un episodio che si è verificato nelle scorse ore e che ha visto un incendio all'interno della tenda della protezione civile situata nella zona vaccinazione dell'area dell'ospedale dove solitamente si inoculano le dosi del vaccino Pfizer. La tenda è quella dove gli operatori effettuano le procedure burocratiche ovvero sia la verifica della documentazione richiesta per poter essere sottoposti all'inoculazione del vaccino. Si valuta se le cause siano state o meno accidentali, l'orario di inizio della somministrazione odierna ha subito inevitabilmente un ritardo per consentire agli investigatori di effettuare i primi necessari accertamenti.